Martedì qui 15 marzo 2016 torna un altro appuntamento con Zona Gol, ancora una volta sul 96 del digitale terrestre, ovvero su Teleiride, tutto, tutto, ma proprio tutto il calcio dilettanti con una camminata che partirà dalla Serie D, per la verità si è giocato poco per quanto riguarda il massimo campionato dei dilettanti, arriverà fino alla seconda categoria, per parlarne insieme a noi ci sono due ospiti gratuitissimi, è tornato a trovarci Niccolò Casalsoli dalla Nazione. Ciao Fabio, buonasera a tutti. Eri direttamente in redazione, sei uscito di corsa in fretta e furia. Perfetto, ma qua si viene sempre volentieri. Grazie mille a Niccolò per essere con noi e grazie anche a Massimo Cappelli che ritroviamo, eri già stato nei nostri studi? Sì, un paio di anni fa. Eri ancora mister del Dicomano, se non sbaglio. Oggi invece vesti un'altra divisa, quella dello scalperia. Esatto. E ci parlerai anche di questa esperienza allora. Certamente. Allora, cominciamo, come detto, dalla Serie D. Allora vi porto subito sulla discussione, come voi sicuramente saprete, iniziamo sempre dal girone D. Un po' perché in ordine alfabetico viene prima delle un po' perché c'è una sola Toscana e quindi analizziamo subito la Fortis Juventus. Fortis Juventus che questo weekend non ha giocato, sappiamo insomma che la Serie D ha avuto questo turno un po' particolare, diviso a metà. E a proposito, ti porto subito su questa riflessione, Niccolò, turno un po' strano, no? Vederlo spezzato a metà così. Spezzato a metà anche per l'inizio del torno di Viareggio e quindi c'è la rappresentativa appunto del Viareggio, se non mi sbaglio, oggi. Peraltro mi sembra 0-0 con Livorno. Quindi insomma è un turno un po' particolare, però io credo che una pausa soprattutto nel girone D dove si gioca con un ritmo molto alto fra turni per settimana e tutto sia qualcosa che fa bene. Certo la Fortis è laggiù, la situazione rimane delicatissima a Borgo San Lorenzo, quindi in queste ultime giornate c'è da fare un mezzo miracolo. Mezzo miracolo che per la verità non è che abbia tutta questa fiducia all'ambiente di Borgo in questo mezzo miracolo. Per quanto riguarda la classifica, riguardiamola subito, invece ti chiedo se è il risponso definitivo. Il Parma ha vinto il campionato, anche se matematicamente non l'ha vinto, il Parma ha vinto il campionato. Il Parma ha vinto il campionato, ora non ricordo se quest'ultima o quella prima ha vinto una partita molto delicata nei minuti di recupero con Romagna Centro. Esatto, con Romagna Centro, 1-0, insomma quelli sono un po' le vittorie che si dice che danno il segnale veramente che l'hanno giusto. Non che ci sia da sorprendersi particolarmente e guardare un po' questi dettagli perché con tutto il rispetto peraltro Vicentino, Forlì, San Marino, tutte queste squadre che stanno facendo anche l'Emolese un campionato di ottimo livello. Stiamo parlando di una squadra che ha vinto Coppa UEFA, Coppa L-Coppe, insomma mi sembra abbastanza normale salutarla e dedicarci ad altro per il mondo della Serie D perché il posto del Parma è in tutt'altra categoria. Tutt'altra categoria è il posto del Parma, io vado anche da Massimo Cappelli proprio per parlare di questo girone di Serie D, in particolare il modulo di Fortis Juventus. Ti chiedo Massimo, quali sono le tue sensazioni da allenatore della zona, dall'allenatore del Mugello e della Val di Sieve intorno a quanto sta succedendo a Borgo San Lorenzo? Io non sono all'interno della società quindi parlo da esterno, però ho l'impressione un po' di... per il calcio delle prime squadre di tutto il Mugello ci sia un po' un problema comune, una mancanza di lavoro capillare nei settori giovanili. E quindi ci troviamo purtroppo a vedere in diverse situazioni queste prime squadre che sono un po' non espressione del calcio creato nella società ma espressione appunto dei soldi che abbiamo da investire comprando giocatori, facendoli venire a Firenze o da più lontano e che quindi poi alla fine se i soldi non sono quelli necessari si rischia di fare delle annate deficitarie. Comunque una retrocessione può essere anche, tra virgolette, programmata. Lo vediamo spesso anche nel calcio dei grandi, quello professionistico, ma vediamo tante squadre che a un certo punto del loro percorso di maturazione sono quasi costrette a retrocedere. Necolò, è possibile fare un parallelo su questi due momenti? Ma non so se sia possibile, però collegandomi al discorso fatto dal mister è una considerazione giusta. Visto anche un po' da lontano da Firenze, il Mugello l'ho sempre visto comunque come un'osi molto felice a livello di calcio dilettanti e onestamente ha perso appeal e ha perso anche qualità negli ultimi 5-6 anni. Secondo me forse anche un po' di più. La Fortis è sempre stata un po' il fiolo all'occhiello del calcio dilettanti mugellano. Perderla sicuramente dalla Serie D a questo punto, a conti fatti, sarà sicuramente un peccato. Però diciamo che può essere anche vissuta come un momento per riflettere in società, per magari cercare di ricostruire, cercare di programmare anche un nuovo salto. Perché probabilmente la storia della Fortis dice anche che la Serie D può essere una sua categoria. E magari proprio ripartendo anche un po' dal settore giovanile, anche da investimenti fatti più vicini. Cioè senza dover prendere giocatori da Firenze se non da altre regioni addirittura, magari programmare anche una vittoria di un campionato. Perché seguendo abbastanza da vicino l'eccellenza non mi sembra che ci siano, almeno per quanto riguarda il Girone B, delle realtà così incredibili, con così tanti investimenti se si fa, eccezione probabilmente per il Montevarchi, che ci sta provando fino alla fine, ma probabilmente quest'anno non so se riuscirà o ci arriverà un po' corto. L'eccellenza che quindi vedrà protagonista molto probabilmente la Fortis a partire dal prossimo anno. Massimo, sentivamo anche un po' le parole di Niccolò. È una categoria che la Fortis potrà riaffrontare con un altro piglio rispetto alla conclusione di questo campionato di Serie D. Cioè credi che abbia la forza la società bianco-verde di ripartire già domani alla chiusura del campionato di Serie D con l'intenzione di vincere il campionato. Ma credo che tra la Serie D e l'eccellenza c'è una grossa differenza. Quest'anno la Serie D, specialmente il Girone e la Fortis, era una serie di quasi una sci, perché c'era delle città importanti, con un bacino di usenza molto importante. Quindi penso che dell'eccellenza possa fare, possa ben figurare e ripartire da subito. Proprio a livello di Girone, secondo me, anche, ti dice una cosa che mi sembra sia un po' sulla bocca di tutti, quindi la scelta di fare il Girone di E è stata una scelta sbagliatissima. Sì, è una cosa che abbiamo analizzato anche con gli stessi rappresentanti della Fortis Juventus. Effettivamente forse quella è stata la prima scelta non felice di un campionato che certo non ha portato grosse gioie alla Fortis Juventus, anzi forse neanche una. Io direi di spostarci però adesso anche nell'altro girone di Serie D, perché si è giocato poco anche per quanto riguarda il Girone, però c'erano due recuperi molto importanti, soprattutto quello che vedeva coinvolto il Gubbio. Il Gubbio che adesso vediamo a pari punti contro il Gavorrano. E ne parlavamo anche settimana scorsa, perché sembra che il Gavorrano, soprattutto in seguito al pareggio con la Collegiana di una settimana fa, che poi ha portato tutte le polemiche relative al caso Carobbi-Bonuccelli, sembra che il Gavorrano stia sentendo la pressione di questo campionato, stia sentendo la pressione di essere stata a lungo capolista e che adesso comincia un po' a bacillare la fiducia dei ragazzi di Bonuccelli. Sbaglio? No, non sbaglio. Secondo me si sente anche un po' sottovalutare la forza del Gubbio, che è una squadra di buona qualità, che fra l'altro nella finestra di mercato invernale ci è rinforzata non poco. Mi sembra che, per esempio, la firma del gol vittoria in recupero contro il Gualdo Casacastalda sia stata proprio di Liborio Zuppardo, che è un giocatore di ottima qualità per il campionato di Serie D. E sono tre punti pesanti, perché comunque ora alla ripresa del campionato si parte con una volata sostanzialmente, perché sono a pari punti e quindi vedremo chi avrà un pochino più di orgoglio, un pochino più di nervi saldi per poter portare a casa questo campionato. Allora Massimo, io non so se nella tua carriera d'allenatore sei mai stato in testa a lungo, o comunque sei stato in testa a un campionato, e poi ti sei trovato a dover gestire la rimonta invece della squadra avversaria, ma come si gestisce un gruppo, come si gestisce l'insieme delle energie, anche mentali, di una società per mantenere una posizione? Beh, io credo che se si parla di Gaborrano e di Bonuccelli, io l'ho visto lavorare, è veramente un allenatore molto preparato, e quindi penso che abbia tutte le capacità per gestire un momento del genere. Quindi questo nervosismo che abbiamo visto anche nel post partita con la collegiana, comunque si esaurisce là, in quella partita, negli episodi della partita, nel campo. Ma io penso che per l'esperienza che ha e le capacità che ha, sì. Tra l'altro, ci ricordiamo tutti, il campionato d'eccellenza vinto dalla Fortis, scusate, non vinto dalla Fortis, con Vitaliano Bonuccelli, ma che portò la Fortis a fare il salto di categoria in Serie D, fu un campionato piuttosto simile, ovvero con la Fortis, che battagliò in testa alla classifica, con il Fiesole Caldine di Stefano Carobbi, per, scusate, Calderini, per tutta la stagione, e poi, insomma, alla fine è bella meglio il Fiesole Caldine. Adesso ci andiamo a vedere proprio le immagini della partita che ci raccontava Niccolò Casalsoli, ovvero quella tra Gubbio e Gualdo Casacastalda, alla fine 2-1, ma per il Gubbio forse qualche fatica di troppo per avere la meglio di un Gualdo Casacastalda, che comunque ci ha tenuto a vendere cara la pelle, anche perché, insomma, si trova nelle ultime posizioni di classifica, e sta provando a rendere ancora più dignitoso e onorevole il suo finale di stagione. Un derby giocato in una cornice di pubblico da categoria superiore, oltre 1.500 spettatori a fare da contorno ad una partita che ha regalato emozioni soprattutto nella ripresa, ma che già dal primo tempo sicuramente ha offerto quello che non ci si aspettava, ovvero un Gualdo Casacastalda capace di mettere in grande difficoltà il Gubbio. Si parte con due 4-3-3 speculari e con i due sindaci in tribuna, seduti uno accanto all'altro, stirati e presciutti, a tifare ovviamente per la propria squadra. È il Gubbio che fa la partita ma non trova spazio, anzi il primo tiro è di marca bianco-rossa, con Villanova che al tredicesimo ci prova su corto rinvio della difesa, ma spedisce alto. L'Eugubino Battistelli è una delle tre punte del tridente di Bacci e ci prova di testa su cross di Stoppini al diciottesimo, la palla finisce alta, la prima conclusione Eugubina al ventesimo, cross di Ferretti, girata di Ferri Marini che si fa pure male, ma riprenderà 4 minuti e Ferretti salta l'uomo dalla destra, il cross è delicato ma Zuppab non ci arriva, è il preludio del gol che però arriva sorpresa dall'altra parte, punizione dai 30 metri per il Gualdo Casacastalda, Casacastalda ci prova Villanova sulla respinta della barriera, Eurogoal di Stoppini che indovina l'incrocio e fa esultare i tifosi della curva dall'altro versante. Un paio di minuti, il trentunesimo e Bartolini da buona posizione in Zucca, debolmente ci vuole però un miracolo del portiere Gualdese al trentaduesimo, su colpo di testa, botta sicura di Ferri Marini, Fiorucci si supera, il Gubbio chiude in crescendo, la prima frazione al trentacinquesimo ancora Ferri Marini di poco, sopra la traversa su Torre di Zuppardo, tre minuti e altra punizione di trenta metri, stavolta è Volpa a esaltarsi sulla parabola di Villanova, l'ultimo sussulto al quarantunesimo, la mira del Rosso Blu è decisamente meno brillante dai calci piazzati, come dimostra Croce che spara fuori da trenta metri, ripresa e non ci sono cambi, il Gubbio però parte forte, fa tutto Ferretti, monumentale nel secondo tempo, che si guadagna la punizione dal limite e poi sul calcio piazzato, indovina l'angolino basso con un sinistro, velenoso, uno a uno ed è un sospiro di sollievo perché ora il Gubbio se la può giocare, al decimo Ferri Marini di testa, va di pochissimo a lato, su imbeccata dalla destra, cinque minuti, Romano ci prova Croce da lontano ma finisce alto, sono soprattutto i tiri dalla distanza quelli che caratterizzano questa fase, Romano ci prova due volte in due minuti tra il diciottesimo e il ventesimo ma non va, e allora Maggi decide che è il momento di Crocetti per Ferri Marini, due Panzer in attacco, Crocetti accanto a Zuppardo e proprio Crocetti opera il break al ventattesimo ma Proietti gira debolmente centrale, ci vuole ancora un prodigio di Fiorucci per tenere la partita sull'uno a uno al ventinovesimo, la punizione di Croce sembra dentro ma il portiere Gualdese la spizza fuori, trentunesimo ruba palla ancora Ferretti, sassata da trenta metri, ancora Fiorucci dice di no, in due tempi ma l'occasionissima per gli ospiti, al trentaseiesimo Leugubino Battistelli di testa, invitato dalla destra, si esalta ma Volpe si oppone alla grande, gol sbagliato, gol subito, non subito bisogna attendere di fatto, il novantaduesimo con il Gubbio che chiude col 4-2-4 perché al trentottesimo nel frattempo Sciamanna ha rilevato Croce, Maggi se la gioca col tutto per tutto ed è Degrassia vincere a centrocampo un rimpallo, spedendo in mezzo arriva la testa di Zuppardo e la palla finisce dentro, il Gubbio vince il derby per la quarta volta in fila il Gualdo dopo il novantesimo nella storia dei derby degli ultimi dieci anni e alla fine si riporta in testa la classifica, è festa grande in campo e sugli spalti, ed ora la testa va subito a Poggi Bonzi, prossima sfida, sfida storica per il colori rosso-blu. E questi tifosi del Gubbio che urlano salutate la capolista, insomma tra Gubbio e Gavorrano un po' di differenza c'è almeno dal punto di vista climatico io direi, insomma vi voglio sentire entrambi, più facile vincere a Gavorrano o più facile vincere a Gubbio? Cioè nel senso ci sono più pressioni a Gubbio oppure più serenità a Gavorrano? Gubbio mi sembra anche dall'ambiente che ho visto in questo derby sia una città che segue in maniera molto passionale le sorti della propria squadra, quindi io direi Gubbio, però c'è anche il valore tecnico da valutare, il valore tecnico del Gaborrano di Bonuccelli è un valore tecnico che pesa, che pesa bisogna vedere, appunto secondo me conta tantissimo l'aspetto mentale, l'aspetto della convinzione e spero che nella festa del Gavorrano non rimbombi un po' il 2-2 con strascico di polemiche, con tutto quello che è successo dopo la partita con la Colligiana, insomma però basta aspettare 3 o 4 giorni, poi dopo ci vediamo l'idea subito. Lo scopriamo, meglio avere tutto quel pubblico e tutte quelle pressioni oppure meglio avere un ambiente sereno, calmo? Dipende, se le cose vanno bene, avere le pressioni è una cosa positiva, anzi trascinano e alimentano, d'altra parte bisogna vedere se poi le cose continuano ad andare bene. Per quanto riguarda le due squadre, tu facevi riferimento anche ai valori tecnici delle due squadre, prima sentivamo il mister che elogiava un po' il lavoro di Bonuccelli sulla squadra e la sua capacità poi di farla rendere, ma a livello di singoli, a livello individuale, per te Niccolò, chi è leggermente avvantaggiato tra Gaborrano e Gubbi? Ma non lo so, mi sembrano due organici particolarmente attrezzati bene, contano spesso in questi campionati qui, nell'economia del torneo complessivo, secondo me contano spesso le quote, cioè ragazzi giovani che non fanno sentire se sono bravi la mancanza di esperienza, però in queste ultime giornate spesso pesano gli attaccanti che contano e ce li hanno tutti e due, perché comunque Carnevale e Lombardi da una parte, dall'altra parte c'è Crocetti e Zuppardo, quindi mi sembra che il menù sia ricco e particolarmente invitante da seguire per queste ultime giornate, gli attaccanti saranno decisivi secondo me e la partita, secondo me una partita chiave importante, è già la prossima del Gubbio che va a Poggi Bonzi, Poggi Bonzi di Fusci, mi sembra che non faccia sconti, non abbia intenzione di fare sconti a nessuno. Anche perché insomma sta lottando per i play-off il Poggi Bonzi, allora andiamo a vedere un'altra volta la classifica del girone E di Serie D, torno da Massimo Cappelli, si diceva determinanti, determinanti, e poi ti faccio avvicinare una televisione perché vedo che sei col collo torto, ad opto, ad opto, torto collo per cercare di vedere la televisione. Ti volevo chiedere appunto delle quote, vero, decisive, sono le quote che possono decidere il campionato a questo punto? Le quote sono importanti perché c'è un obbligo di far giocare dei ragazzi in quota e quindi averli di qualità significa non dover pagare uno scotto e quindi di giocare con un giocatore che non è magari ad altezza della categoria. Questo è un po' un problema, un po' in tutte le categorie, se vogliamo. Soprattutto in Serie D che ce ne sono quattro, è un peso ancora specifico, ancora maggiore. Tanto mi è arrivato un messaggio che fa riferimento al girone E di, ho un amico, un tifoso del Parma che mi dice Fabio che è gufata dire che se è bello è vinto il campionato, tu paghi una scena se non si vince, come minimo. Quindi insomma addirittura potrei spingermi anche più in là. Chissà, forse gli offro anche il post-scena, non lo so. Penso che comunque... Il post-scena ti do la mano anch'io perché l'ho tirata bella anch'io a Parma, ma mi sembra così facile come pronostico. Sigillato. Insisto. Dieci secondi alla pausa pubblicitaria, poi torniamo per parlare anche di eccellenza, si è giocato tanto e ovviamente di tutte le altre categorie. Grazie. 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 Grazie a parte. Ci sono il Sandonato, c'è la Bucinese, c'è anche il Montevarchi che tu non accrediti tra le possibili vincitrici, ma c'è anche la nuova Foiano, poi c'è un Grassina un po' in difficoltà. Insomma, una classifica molto corta per quanto riguarda le primissime posizioni. Sarà divertente seguirlo. lo è stato tutto l'anno è divertente seguirlo questo giro nei B di eccellenza in Montevarchi io ti dirò la verità qua due mesi fa un mese e mezzo quando sono venuto tuo ospite dicevo che poteva vincere il campionato era la mia favorita ora a quattro giornate dalla fine con quattro punti da recuperare è una situazione un po' più più difficile anche perché mi sembra che domenica con la vittoria nel rimonto sulla Nova Foiano la rignanesima mi ha mandato un bel segnale di forza tu eri a vedere la partita a Rignano ero a Rignano e onestamente ho visto una squadra che dopo tanti passaggi a vuoto in casa questa volta nel giorno importante, nella giornata in cui doveva dare un segnale di forza l'ha dato peraltro dopo essere stata sotto 1-0 a inizio ripresa con l'ennesimo gol di Monaci e ha trovato due gol negli ultimi 25 minuti pesanti giocando bene mettendo negli ultimi 40 metri per una buona mezz'ora il Foiano insomma Leo e poi Pagnotta hanno fatto due gol che non portano solo tre punti secondo me valgano sei perché adesso da avere un punto di vantaggio sulle inseguitrici ne ha tre sul San Donato che va tenuto più della Bucinese secondo me sott'occhio perché viene da 15 risultati utili consecutivi l'ultima partita l'ha persa il 22 novembre ovvero un girone fa a Campi Bisenzio contro la Lanciotto ultima quindi se si pensa anche che lo stesso San Donato ha fatto due punti nelle prime sei partite di stagione regolare viene da pensare se avesse fatto un cammino regolare probabilmente avrebbe già vinto il campionato però col secco ma si fa molto poco allora tu li hai visti i gol che ci raccontavi noi ancora no o almeno da caso ancora non li hanno visti quindi andiamo a vedere insieme la sintesi di Rignanese Foiano 2-1 la formazione della Valdichiana ha subito la rimonta quando credeva di avere la vittoria in pugno non sono mancati poi gli episodi da Moviola nel big match della giornata il primo e il quindicesimo con questa punizione di degli innocenti la palla sfugge dalle mani del portiere Liberali il numero uno a Marantola riprende quando non si è capito se la sfera abbia varcato la linea bianca l'arbitro fa proseguire tra le proteste dei valdernesi Rignanese perigalosa ancora da calcio d'angolo al ventitresimo sulla linea un difensore del Foiano allontana la minaccia di Bettini nell'azione sin fortuna a Colombi che sarà fuori per più di 5 minuti al ventottesimo altra azione corale della Rignanese degli innocenti dette ai tempi Baccini libera Galli la deviazione di Pagnotta illude i tifosi biancoverdi non passano 60 secondi che finalmente il Foiano esce dal guscio il cross di Castro è deviato da Monaci ma Burzagli attento finale scoppiettante della prima frazione al quarantatresimo Baccini ha la palla buona ma la sua conclusione diventa una telefonata per Liberali dopo un minuto Monaci si inventa un bellissimo sinistro a spiovere Burzagli sembra abbattuto ma con un colpo di Rini evita il gol nel terzo minuto di recupero la Rignanese ancora reattiva e Pagnotta prima colpisce il doppio legno costruendo una clamorosa occasione da gol si va al riposo sullo 0-0 non c'è tempo per segnalare se ci siano delle novità che il Foiano a inizio ripresa passa in vantaggio il merito è di Colombi che inventa un bel tocco in profondità per Monaci lo squalo resiste al ritorno di Meacce Galli e fredda Burzagli con questo bel diagonale in uscita il vantaggio invece di dare la spinta giusta fa rinculare troppo il baricentro degli Amaranto la Rignanese ha il merito di crederci al ventunesimo pareggia grazie ad una bella invenzione di Leo che piazza una botta su cui nulla può il portiere Liberali al trentunesimo un altro episodio da Moviola c'è una mistia sul calcio d'angolo la deviazione ancora di Leo illude tutti ma non il direttore di gara che con la collaborazione dell'assistente alla fine annulla il Foiano sparisce la Rignanese ci crede al trentasesimo Baccini spreca un bel pallone dopo una iniziativa di Pagnotta poi dopo un minuto il momento clou Baccini in area cede sulla pressione di Lombardi il direttore di gara indica il dischetto Pagnotta non si fa il retire dalla grande responsabilità e segna il gol che legittima il primato al triplice fischio la festa è tutta della Rignanese il Foiano in definitiva ha fatto troppo poco per portare a casa l'intera posta il Foiano ha fatto troppo poco secondo il commento della gara ma insomma abbiamo visto in realtà un Foiano che aveva avuto anche la possibilità di fermare la Rignanese sì è vero però sono piuttosto d'accordo con quello che è stato detto in cronaca perché a parte la super parata di Burzagli nel primo tempo e poi il gol del solito Monaci che ormai non ci stupisce assolutamente più poi il Foiano ha fatto molto poco anzi secondo me ha fatto tre passi indietro a livello anche di baricentro e la squadra l'ha abbassato di una ventina di metri e poi la Rignanese è stata brava le ha messi lì e ha trovato questi due gol con Leo che è stato il migliore in campo io l'ho giudicato ogni presente perché veramente sia in fase difensiva che in fase propositiva ha fatto di tutto poi è stato molto bravo Baccini a prendere quel calcio di rigore dopo aver sbagliato un gol di testa piuttosto facile e poi Pagnotta il solito freddissimo dagli 11 metri dal dischetto insomma sono tre punti che contano tanto perché calendare alla mano ma anche la Rignanese domenica va a Signa poi ha un cammino c'ha il figlino in casa va a Firenze Ovest e chiude all'ultima con il Montevarchi ha un cammino secondo me non difficilissimo ce l'hanno più difficili le avversarie soprattutto il San Donato Parlando di Rignanese vado anche da Massimo Cappelli perché insomma prima parlando ci dicevi che tu se dovessi auspicare la vittoria del campionato a una delle squadre che sono in corsa per questo girone B dell'eccellenza insomma hai qualche simpatia in più no? Sì sì per la Rignanese conosco Fabio Guarducci l'allenatore è un ottimo allenatore è un'ottima persona per cui spero che davvero come vi siete conosciuti? siamo conosciuti a Firenze a giocare a pallone tra l'altro e poi l'ho visto lavorare come allenatore invece a Vicchio dopo io me l'ho trasferito ci avevamo persi di vista e fa giocare bene le sue squadre gli dà un gioco e quindi penso che meriti non capivo come mai non stesse allenando ultimamente perché dopo la parentesi a Porta Romana poi era passato dall'altra parte della scrivania ma credo il suo posto sia sul campo lo sta dimostrando e staremo a vedere insomma la Rignanese sta rincorrendo questa serie di ormai da diverso tempo potrebbe essere finalmente l'anno buono chi vuole mettere un po' i bastoni tra le ruote l'abbiamo visto in classifica tra queste c'è sicuramente anche la Bucinese che però questo weekend insomma ha ottenuto un risultato non poi così convincente no 1 a 1 con il con il Porta Romana e sì è stato un risultato al di sotto dell'aspettativa ovviamente che è una squadra che vuole cercare di vincere il campionato partita partita bene il vantaggio poi dopo il pareggio di Sciolli nel secondo tempo che sicuramente fa più comodo al Porta Romana che rimane invischiato in una zona di classifica sempre pericolosa però viene anche da una serie di risultati utili consecutivi che fa ben sperare per questo ultimo mese di campionato molto delicato per le Fiorentine sia nella zona alta che nella zona bassa perché nella zona play out fra play out e bilico per uscirne ci sono invischiate almeno 4-5 formazioni di Firenze e Provincia allora intanto guardiamo proprio il risultato positivo per il Porta Romana un po' meno per la Bucinese nella gara Bucinese-Porta Romana terminata 1-1 finisce in parità l'incontro tra Bucinese-Porta Romana due punti buttati per i ragazzi di Bernacchia era la grande occasione per rimanere a ridosso della capolista regnanese parte subito bene la Bucinese traversone di Vega girata di testa di Pavani fuori dallo specchio della porta insistono i ragazzi di Ministro di Bernacchia traversone di Cacchiarelli girata di testa di Pavani risponde Cacchi angolo di Prosperi Travallini fa da Torre e la testa di Vega infila il portiere Cacchi cerca la Bucinese di chiudere l'incontro ci prova a Mecocci dal limite tiro centrale per rinvenzare il portiere ospite in una delle vocazioni del Porta Romana arriva il pari degli ospiti viene battuto un calcio d'angolo a favore degli arancioni pasticcio difensivo e Ciolli infila il pari ultimi minuti la Bucinese in cerca del successo pieno Saccone si beve tutti ma il pallone non entra finisce così con il rammarico dei padroni di casa andiamo a vedere anche la partita dell'Aquila Montevarchi vittoriosa sul Signa e poi torniamo in studio per commentare ancora questo girone di dell'eccellenza l'Aquila in golla al primo vero affondo Mannella fra i migliori dei suoi soprattutto nel primo tempo in becca Stefanelli che in tunnel su Bruni manda all'incornata vincente con un traversone vellutato Francesco Sorbini ancora a segno a sette giorni di distanza dal gol di Campi Bisenzio bello il suo gesto atletico gioca bene in velocità il Montevarchi nei primi 20 minuti soffre il Signa che però prova ad alzare la difesa la ordina Roberto Castorina il tecnico ospite ma al venticinquesimo Sorbini va al tiro fuori a coronamento di una bella azione la palla però non c'entra il bersaglio al 27esimo un'azione del Signa sarà una delle poche sotto porta davvero pericolosa un calcio da fermo di Coppola Tom Berli mette fuori di poco si chiude il tempo al 34esimo con tre azioni la punizione di Mannella respinta sotto misura da Cappelli poi al 44esimo batti e ribatti con conclusione di Vangi Ferri e Sorbini non trova il raddoppio il Montevarchi e non arriva il 2 a 0 neppure al 47esimo in recupero con prima la conclusione di Vangi poi dopo varie respinte Mannella mette a lato nella ripresa con il Signa che prova in ogni modo a rendersi pericoloso nella metà campo avversaria ma non conclude la vera grande chance capita al 18esimo ad Alessio Renzi su combinazione perfetta Orlandi Vangi e un destro al Fulmicotone che però si stampa sulla traversa come detto il Signa tenta ma il Montevarchi vince e avvicina davvero il primato prima con Nicolò Casalzo li parlavamo delle squadre fiorentine in bilico nei loro verdetti nei responsi che attendono da questo campionato sia per quanto riguarda le posizioni di alta classifica sia per quanto riguarda le posizioni di bassa classifica chi sicuramente è in bilico per quanto riguarda la zona play out almeno è la Sestese e quindi ti porto anche a una riflessione su questa Sestese la Sestese mi sembra che sia in bilico però sia fra quelle squadre che è fuori dalla zona del play out in questo momento perché in questa seconda parte della stagione sta facendo un campionato di ottimo livello ha preso punti pesantissimi contro squadre di alta di alta classifica e sia una una squadra è una società che anche quest'anno ha fatto un cammino molto dignitoso molto positivo facendo con tra l'altro materiale fatto in casa materiale che proviene dal settore giovanile targato rosso-blu appunto quindi sia fra quelle fiorentine che fra un paio di giornate possono anche pensare di tirare una boccata di ossigeno e dire di essere quasi a posto la situazione invece per esempio del Signa è una situazione più complicata che insomma già domenica con la Regnanese avrà una partita molto difficile però attenzione alle sorprese perché insomma Roberto Castorina ci ha abituato anche a tirare fuori a miracoli incredibili non a caso ha fatto fuori il Foiano in un recupero è andato a prendere punti pesanti anche contro altre squadre di alta classifica quindi non sarà una passeggiata anche perché giocare a Signa è sempre una situazione difficile perché ha un buon fattore campo Massimo sappiamo che in Mugello e in particolare a Borgo San Lorenzo non c'è poi tutta questa gran simpatia per la Sestese per via di corsi e ricorsi storici io mi ricordo un campionato che si concluse un po' così un campionato di Serie D con la retrocessione della Fortis e diverse polemiche da parte del Bianco Verdi anche nei confronti della società di Sesto Fiorentino però può essere un modello prima Niccolò diceva tutto fatto in casa quanto viene espresso dalla Sestese anche in prima squadra può essere un modello quindi sì sarebbe un modello da seguire per tutte le società e poi chiaramente secondo il livello di lavoro nel settore giovanile chiaramente andrei a fare una categoria invece un'altra anche se lavori molto bene è chiaro Sesto Fiorentino ha abitanti a 50.000 sì 50.000 poi è chiaro bisogna fare anche con il materiale che si ha a disposizione che è buono perché il materiale è a disposizione che tutti gli anni comunque cerca di aggregare e di mettere insieme la Sestese è un materiale di ottima qualità che poi l'estate viene spesso corteggiato anche da altre società c'è per esempio i due attaccanti Marzelli e Bettazzi sono due giocatori pronti probabilmente anche per fare un piccolo salto di qualità e non rimanere soltanto nella casa madre ma cercare anche di fare i proporsi su una categoria diversa quindi insomma sono d'accordo anche col mister che diceva appunto che bisogna cercare di fare in casa bisogna cercare anche di contenere i costi perché non ci sono più tutte queste finanze da sperperare come è stato fatto soprattutto mi viene in mente negli anni 90 e anche nei primi anni 2000 quindi la Sestese fa una politica molto intelligente secondo me il tuo Grassina il Grassina del tuo presidente Zepponi sappiamo insomma c'è un grande legame d'amicizia io ho detto il tuo Grassina ma va bene va bene mio babbo è di Grassina quindi almeno inevitabilmente ti fa un po' per il Grassina poi ho tantissimi amici che vengono da Grassina e diciamo si è un po' piantato il Grassina viene da quattro sconfitte consecutive tutte sconfitte anche piuttosto nette fuori caso non ha mai convinto particolarmente la squadra di Calderini però ora ha perso anche due partite di fila in casa quindi diciamo il magic moment legato all'Andrea Pazzagli è un po' svanito anche quello non voleva mi ricordo dopo la partita con la Rignanese di aver parlato con Stefano Calderini mi disse speriamo di non vanificare quanto fatto di buono per tre quarti di stagione perché ricordiamolo per tre quarti di stagione la stagione del Grassina da Rino Promossa è stata una stagione entusiasmante vissuta tra primo, secondo, terzo posto con gap cortissimi da colmare speriamo di non vanificarla in queste ultime giornate non è stato un profeta felicissimo ecco diciamo così perché poi ha sempre perso il Grassina purtroppo guardando la classifica adesso è scivolato fuori dalla zona playoff ti chiedo però queste sono un po' le premesse per analizzare anche la situazione del Grassina non si potrà dire per una squadra neopromossa che è stato comunque un successo con Petra a così alto livello? no, secondo me lo si può dire però altrettanto bisogna dire che il risultato alla fine è la cosa che conta e rimarrà sicuramente del rammarico e credo anche in sede di analisi della stagione verrà analizzato il fatto che per 20 giornate 21 giornate il campionato del Grassina è stato un campionato entusiasmante per le ultime nove no cioè per le ultime nove è stato un andamento preoccupante di una squadra che probabilmente paga anche l'assenza di giocatori di grande carisma di grande anche un po' cazzimma passami questo questo termine questo termine qui perché tolto Campana con l'infortunio di Badì di Etro credo che il Grassina abbia perso un po' di leadership allora con questo concludiamo il nostro cammino in eccellenza ti porto anche in promozione vi porto in promozione con le classifiche del girone A e del girone B e così insomma ci facciamo un'idea anche di quello che sono i due gironi principali seguiti da da zona gol per quanto riguarda il campionato di promozione andiamo a vedere appunto lassù Ponte Bugianese a quota 51 e poi il chiusi a quota no no va bene va bene volevamo vedere anche il girone B e poi il chiusi a quota 52 con l'antella che si è un po' staccata non ha più il passo forse per vincere il campionato ma insomma continua a avere una buona posizione classifica rientreremo durante la terza parte guardando una sintesi legata proprio al campionato di promozione ci andremo a vedere la strigiana che non riesce ad andare oltre l'1-2 contro l'impave davernio dunque perde lascia per strada dei punti davvero importanti per quanto riguarda il cammino verso la vetta della classifica quindi Niccolò dopo dovremo analizzare anche questa la strigiana la strigiana che ha perso una viotta occasione per farsi sotto col ponte bugianese alla luce anche del calendario della prossima giornata che è un calendario dove il ponte bugianese potrebbe perdere ulteriori punti insomma è stato un altro gol notevole non me ne voglio il mio amico Matteo Innocenti che saluto anche fatto gol però è stata un'occasione persa tra pochissimo per vedere anche il gol di Innocenti di Innocenti di Innocenti di Innocenti eccoci tornati dunque per continuare la nostra camminata nei campionati dilettanti ripartiamo come avevamo detto in precedenza dall'astrigiana in Pavi d'Avernio scusate Vagianese Vagianese in Pavi d'Avernio solo per capire dove ha lasciato per strada i punti importanti la lastrigiana risponde la Vagianese in Pavi d'Avernio alle prese con due assenze importantissime entrambe nella zona d'attacco della formazione vale a dire l'assenza di Ballerini e Cerrettini mentre comincia in questo momento l'incontro appunto mancano due dei tre attaccanti titolari Ballerini e Cerrettini e quindi le scelte dell'allenatore Fiorentino sono le seguenti il 3-4-3 tanto palla per Bianchi pericolosissimo il suo sinistro si deve mettere le mani fedele poi la palla ancora lì poi Bianchi fa scattare Vanni sulla fascia sinistra ancora dentro per Bianchi tocco di Bianchi e la parata strepitosa di Fedele ecco il sinistro di Ciulli che spiove sul primo palo il copo di testa mancato da Capitan Fattori poi arriva il destro di Bardazzi occasione importante per la Vaianese perché qui negli spalti della Guardiana intanto Bianchi cerca di agganciare questo pallone lo va a chiudere Fattori e poi il destro di Bianchi a palla in rete la palla in rete con i gol di Innocenti al 12esio un minuto di gioco si sblocca la partita e gol di Innocenti su assist di Bianchi che ha rubato il pallone a Fattori ha dormito davvero nell'occasione precedente il capitano della Vaianese regalando di fatto il pallone a Bianchi che ha creduto su quel pallone è arrivato il gol di Innocenti su assist di Bianchi la strigiana quindi in vantaggio dopo soli 12 minuti di gioco siamo sull'alto corto dell'area di rigore su sinistra rientrare il palo clamoroso della strigiana e poi Terzani sbaglia tutto sinistro di Ciulli e palla che spiove in area di rigore mette fuori però Bianchi c'è poi Casarini che ributta il pallone in suo destro interessante colpito bene Casarini palla non facile da tenere bassa poi Stefanelli prova lui a calciare il suo destro domani qualche modo la parola resta lì e finisce fuori incredibile Casarini sterza al centro poi Stefanelli di prima verso Cocco cerca di difendere il pallone arriva Casarini il dribbio di Casarini in suo destro e la parata di Drovanni la spezzata di Casarini dentro per Bardazzi Bardazzi si appoggia a Stefanelli potrebbe calciare ecco il destro di Stefanelli e Drovanni ancora lui mette la palla in calcio d'angolo avaglianese invece in maglia viola pantaloncini bianchi calzettoni viola ovviamente in stesso opposto da sinistra verso destra comincia in questo momento la seconda frazione non ci sono cambi durante l'intervallo ce n'è stato uno come detto alla fine primo tempo per la lastigiana quindi diamo nuovamente lettura delle formazioni poi l'apertura sulla fascia sinistra di Ivanni per Burnic il sinistro di Burnic verso Vanni siamo in area di rigore il conto di Ivanni che reclama anche una spinta da parte di Tarantino si continua a giocare non c'è fallo c'è Bardazzi siamo già dall'altra parte quadra la strese di rimanere a caccia del Ponte Bugianese intanto a palla dentro verso Bardazzi il sinistro di Bardazzi sull'esterno della rete occasione importante per la Vaianese attacca Conti si appoggia per Ciulli il cross sul primo palo per Eccolco Giancolco il pareggio della Vaianese al 41esimo minuto di gioco il gol di Giancolco su cross di Ciulli e la palla che torna la partita che torna in parità proprio quando ormai in pochi ci speravano ancora al 42esimo minuto di gioco sul cross di Ciulli arriva il colpo in testa di Conco e col sinistro di Ciulli tutti in area di rigore a palla che spiove sul primo palo mette fuori la stigiana ancora gli Stefanelli sul tiro la respinta poi Conti e la palla in rete la palla in rete di Conti al 49esimo minuto di gioco il gol fondamentale della Vaianese che ribalta in maniera incredibile il gioco e finisce in questo momento il match col gol di Conti sugli sviluppi di calcio d'angolo incredibile finale di questo match con il gol di Conti che ribalta il risultato e segna la sconfitta della lastigiana il gol della Vaianese con Conti regala tre punti fondamentali ai Val Bisentini finisce davvero con grande emozione questo match con l'esultanza dei giocatori della Vaianese ovviamente abbiamo visto le immagini della partita che appunto ci ha fatto vedere dove ha perso per strada i punti la lastigiana abbiamo sentito anche mister Capelli insomma che si arredeva un po' anche per le esultanze alla fine sembrava che un giocatore del Vaianese andava a salutare il portiere della lastigiana e quello l'ha mandato un po' bellamente a quel paese non l'ha salutato comunque insomma questa è una partita sicuramente rocambolesca dalle grandi emozioni adesso però siamo in dovere di scendere anche in prima categoria quindi classifica della prima categoria girone C per conoscere anche quello che è stato il fine settimana e soprattutto per conoscere ancora una volta da vicino il leader di questa classifica che è il Pontassieve inseguito però dalla Sagginale per quanto riguarda il Pontassieve il pareggio 1-1 in questa settimana con la Settignanese per quanto riguarda il Sagginale invece il pareggio 0-0 con l'idea l'incisa andiamo anche da Massimo Cappelli per analizzare questo campionato insomma prima della trasmissione ne parlavamo di questo duello Pontassieve Sagginale per te insomma mi pare di aver capito che c'è una squadra che al di là della posizione di classifica ha un leggero vantaggio ma secondo me Sagginale come il Rosa è superiore a quella del Pontassieve e poi se contiamo il fatto che dall'arrivo di Polloni ha recuperato 12 punti credo che abbia possibilità nelle ultime 5 giornate con lo scontro diretto in casa di poter fare su il campionato magari quelli Sagginale facciano i debiti scongiuri già sono arrivati i messaggi di scongiuri quindi non possiamo non possiamo certo portare sfortuna a nessuna delle squadre della Contesa per quanto riguarda invece il cammino delle altre in questo campionato vediamo in posizioni diciamo da playoff piagge palazzolo e grevigiana però insomma c'è direi un divario netto tra le prime tre e poi tutte le altre perché andiamo a analizzare la classifica io direi prima quattro dai teniamo dentro anche le piagge poi per il resto penso che ci sia davvero poche chance per pensare ai playoff ma da un punto di vista di qualità secondo me anche l'incisa e la settimanese sono ottime squadre l'incisa è per l'altro recuperare una gara come si suggerisce anche l'asterisco sì quello del domani con la Gaglianese e credo che facciano un po' un campionato a sé anche se ormai forse il divario per la grevigiana è un po' è ampio però e le altre invece stanno facendo un campionato per la salvezza praticamente tutte possono essere ancora coinvolte nei playoff per quanto riguarda le posizioni di bassa classifica appunto chi vedi più inguaiato prima parlavamo Del Lucco ad esempio che è un po' in difficoltà ha fatto un campionato sotto tono rispetto alle aspettative però penso che abbia le possibilità di tenersi fuori dalla corsa playout invece per quanto riguarda Borghigiana Rontese e tutte le squadre a inseguire cosa pensi? penso che il Sangotenzo sia messo abbastanza male anche perché c'è un trend negativo da parecchie giornate non riesce a invertirlo purtroppo e lo Stia sia una squadra che da un punto di vista di qualità abbia molti problemi penso che potrebbe ancora formarsi una forbice lì però sono le ultime cinque giornate bisogna vedere le altre che fanno mi sorprende vedere il luogo lì perché sotto il profilo della Rosa penso fosse attrezzata per i playoff con tanti giocatori che hanno fatto parte anche di squadre in altre categorie ben più importanti per quanto riguarda lo Stia da sottolineare il pareggio con l'impruneta proprio in questo weekend un 2 a 2 che di fatto non ha aiutato nessuno se non forse la Rontese che vincendo con la Galleanese si è potuta portare a quota 24 proprio a braccetto con l'impruneta adesso la Rontese paradossalmente ha appena tre punti dal luogo quindi dalla prima squadra fuori dalla zona playoff quindi c'è speranza anche per i neroverdi a questo punto però Massimo parliamo anche di Scarperia di seconda categoria quindi insomma ti invito a raccontarci un po' anche la tua decisione di andare a Scarperia innanzitutto e poi insomma di raccontarci questo cammino non certo facile in una società che sta cercando di rinascere sì chiaramente è un anno zero per la società dello Scarperia sono stati fatti sforzi importanti per salvare questa società e il settore giovanile e ridare una prima squadra a questo paese sapevo quando sono arrivato le difficoltà che ci sarebbero state c'è stato una comunione di intenti con la presidente e la volontà era quella di far crescere questo gruppo cercare di raggiungere la salvezza se possibile ma comunque farli crescere anche per gli anni successivi visto che sono ragazzi che sono tutti molto giovani sono molto giovani legati allo Scarperia per quanto riguarda la classifica la vediamo insomma la tua missione è quasi disperata direi per ottenere la salvezza e non me ne volere ovviamente Massimo ma insomma guardando anche un po' la situazione di classifica certo non si può pensare che il tuo sia un compito semplice ma analizzando poi invece il resto della flotta diciamo di squadre che sono lì in lotta per non retrocedere chi vedi più in difficoltà chi vedi invece con più possibilità di uscire da questa zona in difficoltà per le squadre che ho incontrato e che ho visto giocare forse il Vaglia che ha qualche difficoltà in più per il resto mi sorprende un po' il Barberino nelle ultime giornate non ha affatto bene ma secondo me è una compagine un po' più organizzata rispetto al Vaglia in testa della classifica invece per il resto anche l'Olimpia che nonostante sia una squadra giovane che gioca bene però secondo me potrebbe ancora rischiare di rimanere di essere superata da quelle dietro tra l'altro l'Olimpia che ha perso in questo weekend contro il Londra per quanto riguarda le primissime posizioni è discorso chiuso di Comano la tua ex squadra ha ucciso il campionato sì è una corazzata di Comano quest'anno è una squadra forte in tutti i reparti e quindi credo senza dubbio la squadra si merita di vincere senza dubbio questo campionato il resto mi aspettavo forse qualcosa di più dalla rondinella e potesse impensierire maggiormente di Comano ma insomma erano quelle le squadre che più o meno davo per vincenti del campionato forse per il San Piero mi aspettavo che arrivasse tranquillamente ai playoff per la squadra che ha fatto e invece è a 5 punti dalla zona playoff ma soprattutto ha tante squadre di fronte a sé ti chiedo se hai anche qualche insomma come vivi questo primato del Dico Mano insomma essendo stato tu allenatore del Dico Mano come lo vivi se lo guardi con simpatia oppure dopo che si è rotto il rapporto insomma hai avuto un po' più difficoltà a guardare la classifica no no assolutamente a Dico Mano ho lasciato tanti amici e nella squadra ancora ci sono pochi dei ragazzi che ho allenato io ma qualcuno ce n'è e sono contento per loro e per le persone che fanno parte della società che comunque mi sono sempre stati vicini per cui sono contento per questo primato e me l'aspettavo ho visto la squadra che avevano messo in piedi all'inizio dell'anno insomma per quanto riguarda le sorprese del campionato direi sono state il Pontagreve senza dubbio perché ha fatto un campionato come neopromosso lo stesso Cubino ha fatto un campionato importante Pontagreve che peraltro ha battuto il Dico Mano questa settimana sì ma forse nessuno si aspettava che riuscisse ad attrezzare una squadra dalla terza categoria riuscisse così a ben figurare in seconda perché comunque c'è una bella differenza tra terza e seconda categoria una differenza che non vuoi scoprire penso non vorresti scoprire preferirei di non insomma cioè almeno non vorresti scoprire là sul campo quindi ti chiedo insomma qual è il domani Massimo Cappelli vediamo intanto con la società siamo d'accordo di finire questa stagione nel miglior modo possibile noi abbiamo ancora speranze di fare ancora punti i più punti possibili e poi vediamo al 30 d'aprile quando sarà finito il campionato in che posizione saremo torno anche da Niccolò Casalsoli proprio per parlare della Rondinella una società di cui tutti gli appassionati di calcio hanno sentito da parlare almeno una volta una società che ha avuto trascorsi addirittura in Serie C partite storiche contro formazioni che oggi magari neanche ci sogniamo di vedere opposte al nome di Rondinella è una buona stagione questa è da considerarsi una buona stagione essendo la seconda forza del campionato di seconda categoria oppure dato il nome dato il prestigio date le ambizioni insomma ancora una volta il progetto di Rondinella non riparte o comunque non trova lo slancio giusto ma sentire il nome della Rondinella in seconda categoria stona sempre un po' ti dico la verità perché comunque siamo abituati a parlare di Rondinella come seconda squadra di Firenze e in questo momento insomma la seconda squadra di Firenze è un'altra credo che quest'anno il campionato io non non seguo da vicino il campionato che sono da categoria però mi sembra che comunque abbia fatto un buon campionato la Rondinella soprattutto paragonato con quanto è stato fatto l'anno scorso dove mi sembra che la Rondinella navigasse in acque un po' diverse rispetto a quella di questa stagione e mi sembra che a quanto dice anche il mister mi sembra che Di Comano fosse un po' una corazzata per questa edizione del girone M se non sbaglio della seconda quindi è lì e probabilmente ci sono anche playoff dopo quindi non è detto che non ci sia la possibilità di disputare una seconda parte di stagione di qualità e puntare ad andare in prima categoria per poi insomma cercare di rivederla la Rondinella in una categoria più alta perché la storia il prestigio il ricordo della Rondinella è legato a altre latitudini altre categorie insomma In chiusura vorrei portare anche Massimo Cappelli su un'altra riflessione perché io mi sono stupito pensando prima alla tua carriera che è legata a presidentese donne cioè tu hai solo panchine da donne quindi da presidentese donne quindi o sei sicuramente affascinante e le conquisti in qualche modo pure spiegaci tu come mai allora no solo in prima squadra poi ho allenato anche il settore giovanissimo però per quanto riguarda la prima squadra presidentessa donne sì effettivamente è un caso però non devo avere tanto faccio in vista di umano ma non mi hanno mandato via ora spero di rimanere a scarperia fino alla fine della stagione e il rapporto con Fulvia Penni com'è con la presidentessa dello scarperia beh è una presidente molto vicina alla squadra e si interessa tantissimo è presente e anche molto focosa rispetto alla alla situazione in ogni tanto anche in panchina ci può essere qualche problema con gli arbitri è difficile da contenere difficile da contenere sì ma questo binomio donne e calcio tu come lo vivi? ma molto molto positivamente secondo me le donne hanno una marcia in più in tutto e quindi anche nel calcio possano portare qualcosa Niccolò ti potremmo affiancare quindi anche un'intenditrice di calcio per seguire invece insomma le partite di calcio sarebbe fantastico sfido a trovarla l'intenditrice donna che segue il mondo dei dilettanti del calcio sarebbe una cosa più difficile secondo me mentre ci sono tantissime colleghe dirigenti non lo so però ci sono tantissime colleghe che seguono bene il calcio che conta come lo chiamo io e probabilmente quello dei dilettanti è un pochino più roba da da maschette sì da maschette da intenditori fanatici di un po' se qual è la descrizione giusta la bucinese se non sbaglio ha un presidente donna quindi insomma non è poi così raro vederle in ruoli di prestigio cosa andrai a vedere settimana prossima? non lo so ancora probabilmente può darsi il porta romana in casa con la Sinalunghese che è una partita delicata per il fronte salvezza Sinalunghese sta attraversando un ottimo momento e invece mister Cappelli ti aspetta il trocedo da non sottovalutare e te lo dico perché sono un tifoto del Barberino e ultimamente insomma ci è capitato proprio di perdere col trocedo questo fine settimana quindi insomma non lo ha sottovalutare il trocedo no no ma l'abbiamo già raccontata nel giro d'andata per quello che già la conosciamo che partita d'attenti? è una partita difficile comunque perché comunque lo giocano in casa hanno un gioco abbastanza strutturato anche loro sono una squadra abbastanza giovane e quindi andiamo a giocarsela tanto noi ormai tutte le partite cerchiamo di giocarcele tutte all'inizio alla fine e tranne un paio di partite nelle ultime 10-12 partite abbiamo sempre fatto delle buone gare delle buone prestazioni i ragazzi sono cresciuti vai rinfrancato dal pareggio ottenuto 0-0 col Firenzuola oppure con un po' camara in bocca no no è stata una bella partita secondo noi ben giocata ovviamente Firenzuola in casa è una bella squadra una squadra che può ambire tranquillamente a playoff e quindi per noi è stata una partita giocata alla pari e quindi ci ha dato comunque soddisfazione benissimo allora insomma seguiremo ovviamente il cammino del tuo scalperia ti auguriamo un buon lavoro ovviamente alla guida dei gialloblu e che insomma per la società del paese dei ferri taglienti ci sia insomma un futuro rigoglioso sicuramente un futuro migliore di quanto è stato il passato gli ultimi mesi soprattutto Nicolò se poi hai voglia di andare a vedere il Firenzuola la prossima volta so che insomma tu essendo fiorentino centrico Firenzuola sarà fatto prenderemo l'Ihotto e andremo a Firenzuola a vedere a vedere Firenzuola salutiamo tutti gli amici di Firenzuola che ci seguono lo so insomma sono tanti sono numerosi anche appassionatissimi di calcio l'appuntamento con Zona Gol però termina qua dunque io ringrazio ancora una volta Nicolò Casalsoli e Massimo Cappelli per essere stati in nostra compagnia un intenditore fanatico e a tempo perso giornalista per la nazione così ogni tanto gli capita e ovviamente scherziamo con Nicolò e Massimo Cappelli mister del loro scalperia grazie a voi grazie a voi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti